Benvenuti amici di Alcedo Video, questo video speciale per festeggiare i 13.000 iscritti e per dirvi quali saranno i buoni propositi di Alcedo Video nel 2016 e vabbè, vi scuso intanto per la luce che fa un po' cagare ma non avevo voglia di mettere l'impianto luce mi scuso un po' per la voce ma il mio peggior nemico, il raffreddore, si sta facendo vivo sto cercando di lottare per non prenderlo ma mi sa che lo prenderò e intanto vi ringrazio per i 13.000 iscritti perché lo so che sono pochi per alcuni però per quello che facciamo noi, per l'impegno che ci mettiamo noi i 13.000 sono già un buon risultato, ci rende abbastanza felici anche se vogliamo sempre più crescere e fare il culo a tutti quegli altri youtuber che non se lo meritano tipo questo game! Quindi, quali saranno le novità del canale Alcedo Video nel 2016? Innanzitutto cercheremo di rifare tutte le stesse fiere dell'anno scorso anche se quelle grandi, se non troviamo un budget o se non ci finanziano dubito di riuscire a farle perché quest'anno la cassa piange è vuota tipo, non c'è più nulla assolutamente che poi la cassa erano i miei soldi di tasca mia che ci mettevo io e quest'anno non sono particolarmente ricco diciamo la cassa è vuota e quindi bisogna un po' arrangiarci stiamo cercando di raggiungere un accordo con una specie di sponsor appena faremo una riunione ora non vi dico nessun dettaglio perché non abbiamo fatto nessuna riunione quindi non sto a sventolare niente quindi semmai ve ne parleremo, se raggiungeremo un accordo quindi fiere qua nella zona Super Giù quasi tutte sì perché Super Giù ci offrono tutti qualcosa, un rimborso oppure sono vicine tipo Massa Comics e non ci offrono un rimborso perché tanto, cioè quanto sarebbe rimborso? 2 euro però ci dà uno stand è uguale il Cusplay di Pisa anche se ora all'inizio di marzo non so se riusciremo ad avere uno stand comunque sono tutte fiere che meno male ci danno un qualcosa in cambio visibilità, stand, rimborso quindi riusciremo Super Giù a farle per quelle grandi, lontane vediamo, cercheremo anche di contattare gli organizzatori gli faremo anche capire che se a Lucca Comics ci hanno chiamato e siamo stati dentro lo staff a fare video e cose varie perché loro non dovrebbero fare altrettanto questi sono discorsi che lasciamo perdere però tanto per farvi capire qual è la situazione adesso di Alcedo Video altra novità del canale saranno dei video al cinema tipo quelli che abbiamo fatto a Raduno Ritorno al Futuro se non l'avete visto vi lascio il link in descrizione semmai il piano è quello di andare nei cinema e fare dei video un attimino più costruiti la cazzo di cane come abbiamo fatto per Star Wars e il raduno di Ritorno al Futuro fare delle interviste per sentire quali sono le aspettative del film e sentire magari il post se sono d'accordo cose varie sempre nello stile Alcedo non è che vado lì serioso faccio le mie classiche battute e il film Marvel a chi piace il film Marvel lo manda a cagare perché non c'è neudito che nel 2016 si riesca ancora ad apprezzare un film della Marvel che cagata proprio quindi ora non faremo tutti i film sceglieremo magari il migliore del mese e andremo a vedere quello faremo un mini raduno con qualche leggenda farò le interviste eccetera eccetera ci metteremo magari d'accordo con qualche cinema qua della zona chi vuole magari venire viene e cose del genere per il progetto Stay in Cosplay for the Kids vi lascio semmai il link in descrizione del video per chi non sapesse che cosa sia stiamo lavorando cioè il progetto deve essere approvato dal dal comitato dell'etica allora a quanto ho capito se riusciamo a avere l'approvazione del comitato dell'etica non avremo più ostacoli per fare gli eventi negli ospedali e altre cose di questo genere quindi appena approvato questa cosa qui il progetto partirà poi semmai vi farò un video dedicato decideremo anche insieme magari cosa fare come quando vi farò vedere magari vi faremo anche una live dove io propongo quello che avevo in mente e poi magari facciamo un mescolume e decidiamo che cosa fare quindi il progetto è ancora in stand by però è è quasi tutto pronto manca l'approvazione poi partiremo il secondo canale nel 2016 ritornerà vivo finalmente sì e vai molti di voi magari non sapranno neanche l'esistenza del secondo canale ma ebbene sì c'è un secondo canale dal Cedo che una volta pubblicava è backstage ma adesso non le pubblica più in cui adesso parlerò un po' del mondo ludico mi hanno chiesto di parlare un po' del mondo delle magic so che molti di voi non ve ne fregarà niente ma comunque ero un abbastanza esperto di magic poi l'ho lasciato un po' perdere mi hanno richiesto di riparlarne dovrei raggiungere un accordo anche qui con un'altra cosa non vi svelo cosa semmai ve ne parlo più avanti comunque ci saranno novità sul secondo canale riguardo al mondo magic magic dei gunter in quello dove si giocano che faccio magie e magari parlerò anche qualcosa non proprio video cioè gameplay cagosi come fanno quegli obesi schifosi di gamer ma più che altro vi farò vedere come noi di Alcedo ci divertiamo a cazzeggiare nel mondo dei video giochi e cose del genere proprio cose semplici per far rimanere un attimo inattivo il secondo canale e sfruttarlo per queste cose altri buoni propositi per il 2016 sono tanti non vi sto a dire altro perché non so se riuscirò a farli in tempo tipo sto scrivendo un libro sto scrivendo un fumetto e altre di queste altre cazzate di questo genere spero di raggiungere determinati step più che altro tutto dipenderà anche parte dal budget purtroppo perché senza budget si fa poco e vediamo un po' come siamo messi intanto continuo a ringraziarvi tutti per il sostegno che ci date quindi per ogni domanda ogni richiesta ogni cosa ogni qualunque cosa se ci volete suggerire qualche fiera oppure se ci volete mettere in contatto con qualche organizzatore di qualche piccola fiera che magari vuole un po' di pubblicità e cose varie scrivetecelo pure nella pagina facebook il link è in descrizione da qui è tutto anche perché la batteria è scarica non so quanto possa durare e basta non c'è da dire altro no è arrivata mia zia ora farà del casino quindi mi tocca spingere basta via direi che è tutto vado a studiare vado a provare a scrivere un vlog che volevo fare e ci vediamo non lo so prossimamente credo prossima fiera credo sia a marzo quindi gennaio-febbraio farò qualche video così ma nulla di che a meno che non mi trovate qualche fiera divertente da fare e vabbè basta basta vi lascio così vi lascio così Grazie.